Ben trovati al nostro telegiornale. In apertura ci sono i dati Covid con l'ultimo bollettino, quello diffuso in serata dall'ASREM. Sentiamo. Ancora due ricoveri per Covid in Molise nelle ultime ore, uno nel reparto anzianofragile, l'altro in malattie infettive ed è ancora purtroppo alto il numero dei nuovi contagi, 219 sui 1.549 tamponi processati con il tasso di positività al 14%. E Termoli, il centro più colpito con 47 nuovi casi, seguono Campobasso con 31, Larino con 21, numeri più bassi negli altri comuni interessati dal virus. Il bollettino ASREM riporta anche 73 guariti. Gli attualmente positivi sono 6.721, i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 27, di cui 10 in malattie infettive, 15 in anzianofragile e 2 in terapia intensiva. Le vittime del Covid in totale sono 578. Questa mattina al mercato ittico di Termoli si sono riuniti gli armatori per decidere se rimanere a terra un'altra settimana e dunque continuare la protesta a causa del caro gasolio. Tutte le novità nel servizio di Francesca Danversa. Il caro gasolio costringe i pescatori termolesi a fermarsi un'altra settimana, lo ha deciso la maggioranza degli armatori che questa mattina si sono riuniti al mercato ittico per prendere una decisione in seguito all'incontro di ieri d'Ancona dove hanno partecipato i 70 delegati delle marinerie d'Italia per confrontarsi se prolungare lo sciopero oppure no. Rispetto alla scorsa settimana non è cambiato niente, il prezzo del gasolio è ancora alto, però abbiamo il problema di tutte le imprese, dei dipendenti e siccome non è che arriveranno aiuti immediati, il provvedimento più immediato che potrebbe fare il ministero che è stato chiesto da una parte della marineria italiana è di fare una specie di fermo, chiamiamolo biologico, anticipato. Questo è un provvedimento che il ministero potrebbe fare anche in tempi brevissimi. Nel corso della riunione molti hanno chiesto di rimanere uniti e compatti e sposare la decisione dell'Abruzzo e della Puglia che hanno deciso di rimanere a terra. All'incontro è presente il sindaco Francesco Roberti che fin dall'inizio è rimasto accanto alla categoria e che ha ribadito di aver chiesto un incontro urgente al presidente Toma. Stamattina abbiamo deciso a maggioranza di stare fermi per protesta ancora una settimana proprio perché dobbiamo garantire qualcosa ai nostri dipendenti. In questo modo possiamo garantire la cassa integrazione. È stato deciso che comunque le barche lunedì saranno ferme, saranno ferme in attesa poi delle altre marinerie. So che alcune marinerie usciranno, Chioggia, nelle Marche e quindi qua hanno deciso di stare fermi in maniera solidale con le barche che poi alla fine anche in Puglia saranno ferme. Il caro benzina è un'emergenza per tutti ha detto la parlamentare di Forza Italia Anna Elsa Tartaglione in particolare per il mondo produttivo e del lavoro e lo Stato e l'Europa non possono restare a guardare. Per prima cosa ha continuato bisogna tagliare le accise come gruppo di Forza Italia. Via la Camera abbiamo presentato un'interrogazione in cui si chiede di applicare attraverso un decreto d'urgenza il meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla finanziaria 2008 e che non comporta riduzioni di gettito per la finanza pubblica. Un primo passo ha concluso Anna Elsa Tartaglione per poi intervenire anche sull'IVA e l'Unione Europea compatta deve assumere provvedimenti seri contro la speculazione in atto. Siamo in presenza di una colossale truffa del mercato che è fatta a spese delle imprese e dei cittadini. Sono le dichiarazioni del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani riportate dalla Stampa Nazionale in riferimento all'attuale situazione del caro Carburanti. Il responsabile regionale dell'Unione Nazionale dei Consumatori, l'Avvocato Ennio Cerio, ha presentato un esposto in procura chiedendo che il Ministro Cingolani venga sentito come persona informata sui fatti così da poter spiegare ai magistrati il contenuto delle sue dichiarazioni. Parliamo adesso di Sanità e del POS 2019-2021 impugnato dinanzi al Tar Molise dai comuni di Larino, Isernia e dai comitati in difesa della sanità pubblica sul provvedimento è attesa l'udienza di merito, mentre il Consiglio di Stato investito della vicenda a giudizio dell'Avvocato Vincenzo Iacovino, che porta avanti il ricorso, ha adottato una decisione contraddittoria. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Il POS 2019-2021, così come è stato approntato, è illegittimo. Ne sono convinti i comuni di Larino, Isernia e i vari comitati in difesa della sanità pubblica sparsi sul territorio regionale che, assistiti dall'Avvocato Vincenzo Iacovino, hanno impugnato il provvedimento dinanzi al Tar, un provvedimento giudicato appunto illegittimo perché adottato senza il preventivo coinvolgimento del Collegio dei Sindaci. Il POS è sospeso, quindi non produce effetti, ha ricordato l'Avvocato Iacovino, ma nel frattempo emodinamica funziona a singhiosso a Santimotio di Termoli, con gli immaginabili disagi e problemi per i cittadini. Da qui la richiesta pressante dell'udienza di merito che tarda ad arrivare. In quel caso i giudici amministrativi dovranno decidere se il POS è legittimo o meno. Una vicenda della quale è stato investito il Consiglio di Stato, che a giudizio di Iacovino ha assunto una decisione contraddittoria quanto pilatesca. I giudici chiamati ad esprimersi in via cautelare sul POS, si legge nell'ordinanza, pur considerando apprezzabile la richiesta cautelare, connessa all'assenza di donne e misure organizzative e operative finalizzate a fronteggiare il verificarsi di episodi potenzialmente letali a causa della chiesura del reparto di emodinamica, hanno ritenuto che questa criticità potrà essere soddisfatta in attesa che il Tarmonise fissi l'udienza di merito. Peccato che l'udienza di merito l'abbiamo chiesta da un mese, ha denunciato l'Avvocato. Il Consiglio di Stato, preso dal rimorso, ha ritenuto di sollecitare l'attenta considerazione del bisogno assistenziale da parte dell'amministrazione nell'esercizio del compito che adesso aspetta di individuare le misure più idonee a tutelare il diritto alla salute nell'ambito del procedimento di approvazione del POS per il triennio 2022-2024. Nel frattempo, ha concluso Iacovino, i comuni di Larino, i Cerni e i comitati attendono la decisione del merito del Tar Molise. Cresce la preoccupazione per i rincari disposti da Molise Acque sulle tariffe per comuni, imprese e usi irrigui a sollevare la questione. È stato il consigliere regionale Gianluca Cefaratti. Lo abbiamo intervistato. Sentiamo Pasquale Di Bello. Crescono le preoccupazioni per i rincari delle tariffe decisi nella seduta di fine anno dal Consiglio di amministrazione di Molise Acque. Aumenti retroattivi al 2016 che sfiorano il 35-40% del costo originario dell'acqua per comuni, usi irrigui e industriali. Preavviso di una stangata che rischia di mettere in ginocchio la già pessima situazione di famiglie e aziende. A sollevare la questione è stato il consigliere regionale Gianluca Cefaratti. Io in qualche maniera ho scoperchiato probabilmente un pentolone. Nel momento in cui ho letto il provvedimento del Consiglio di amministrazione di Molise Acque mi sono accorto degli effetti che quel provvedimento avrebbe comportato soprattutto sulle casse comunali ma anche dei fruitori dei servizi di Molise Acque e quindi anche coloro i quali non sono enti locali ma fruitiscono in qualche maniera dell'acqua che Molise Acque concede loro. E ne ho capito da subito la portata in termini economici devastante per le casse delle amministrazioni comunali e di conseguenza temo dei cittadini. Aspetto tutto da chiarire della vicenda è il preventivo assenso fornito a Molise Acque dall'Egam, l'ente preposto alla gestione del servizio idrico molisano struttura della quale fanno parte i sindaci dei principali comuni molisani ma sono proprio i sindaci paradossalmente ad alzare adesso le barricate contro i rincari stabiliti da Molise Acque. Nel 2018 ci sono dei provvedimenti del commissario straordinario Egam che adotta dei provvedimenti e poi mi consenta stranamente questi provvedimenti sono ricomparsi alla fine del 2021 quando peraltro è stato costituita l'Egam con le rappresentanze dei territori e quindi con i sindaci di 10 realtà, ricordo le realtà più grandi che sono Campobasso, Boiano, Isernia e Termoli. Io non so se questo provvedimento è davvero passato in qualche maniera sottotraccia anche rispetto all'attenzione che gli amministratori locali dovrebbero mettere in queste cose qui. Però spero davvero che ci sia il tempo e il margine per recuperare questo provvedimento che sarebbe disastroso. Ieri nei nostri Tg abbiamo ricordato che entro venerdì prossimo scadono i termini per la presentazione dei progetti di finanziamento della misura B del PNRR per il rilancio dei paesi molisani. Intanto si registra grossa soddisfazione a Pietrabbondante per l'affermazione del comune alto molisano nella simbolica gara con tutti i centri della nostra regione per la misura A, quella riservata appunto ai paesi con l'assegnazione di 20 milioni. Ci racconta tutto Enzo Di Gaetano. 20 milioni ma non per tutti, Pietrabbondante e notizia dei giorni scorsi. Si è aggiudicato i 20 milioni per la misura A del PNRR, soldi destinati dal governo per il progetto di rilancio e recupero del borgo più caratteristico di ogni regione italiana. Una gara appassionante che ha visto in lotta tra loro diversi comuni della nostra regione, tutti in corsa per aggiudicarsi i 20 milioni, una cifra con cui si può davvero ridisegnare un paese. E la scelta fatta in Molise non poteva essere più significative ed appagante, sia per il richiamo turistico, sia per la storia stessa del Zagno e della sua costola molisana, erede del popolo sannita che a Pietrabbondante aveva il suo santuario ed il suo teatro. Pietrabbondante secoli e secoli fa era il centro propulsore della civiltà sannita, tra cui Monti batteva il cuore del Zagno. E oggi c'è tanto da costruire attorno all'effigie, al simbolo della nostra storia, una scelta che fa onore a tutta una regione che ha deciso di valorizzare le sue radici. Nessun comune molisano può prendersela perché a Pietrabbondante c'è l'embrione del Molise. Questo bandolo ha vinto Pietrabbondante per una questione territoriale, ma credo che sia un momento di crescita per l'intera regione. Quindi il mio primo pensiero va ai sindaci di tutti gli altri comuni della regione molise che hanno espresso stima e apprezzamento per questo risultato. All'Olo voglio dire che Pietrabbondante sarà il volano di una crescita sicuramente significativa per l'intera regione. E vediamo in cosa consiste il progetto di rilancio, quali le sue linee e su cosa punta. Il nostro progetto parte soprattutto dalla valorizzazione dei nostri beni, quelli archeologici come prima fonte di reddito per il nostro paese. E' giunto il momento che tutto quello che di bello abbiamo, di straordinario abbiamo, abbia una ricaduta economica sulla popolazione di Pietrabbondante. Quindi valorizzazione dell'aria archeologica in primis e tutto quello che ne consegue. Ovviamente di riflesso la preparazione al nostro borgo, ormai i nostri paesi così vengono definiti e devo dire che dà forse anche il senso più di appartenenza e il discorso parlare di borghi, il nostro borgo si prepara con un grande progetto rivoluzionario, di riqualificazione urbana, con la creazione di punti di eccellenza. Uno su tutto sarà il nostro museo archeologico all'interno del centro abitato. Continua in Molise l'impegno a sostegno del popolo ucraino, anche San Giacomo degli Schiavoni si conferma paese solidale, doppia raccolta di beni di prima necessità. Andrea Nasillo. Anche nei paesi del Molise la solidarietà non ha tempo, diverse iniziative a sostegno del popolo ucraino. Siamo a San Giacomo degli Schiavoni, la comunità ha risposto presente. Il Comune ha predisposto una raccolta di beni di prima necessità, diversi giorni di impegno che ripaga. La consegna di quintali di materiale da parte dei volontari della misericordia, direttamente ai rifugiati di guerra al confine polacco. San Giacomo degli Schiavoni ha risposto ancora una volta alla grande, con uno spirito di solidarietà davvero fenomenale, verso le popolazioni che sono state colpite dal conflitto bellico in Ucraina. Come vedete la stanza è piena di beni di prima necessità, beni alimentari, farmaci, prodotti per l'igiene personale, prodotti di cancelleria, prodotti che grazie alla misericordia di Termoli, sezione di San Giacomo, verranno poi trasportati ai confini dove i rifugiati si stanno ammassando, specialmente in Polonia e in Romania. La priorità è aiutare chi soffre. Anche la parrocchia con Don Alessandro Sticca si è adoperata in una seconda iniziativa collaborando con l'associazione Apolonia. Stiamo raccogliendo tutti i tipi di genere di prima necessità, medicinali, cibo, vestiti, per aiutare il popolo ucraino. E quindi ho mandato manifestini, avvisi, posto su tutti i gruppi social della parrocchia e si sono mobilitati in tanti. Novità nel campo della chirurgia spinale. Questo è il tema al centro del meeting, tenutosi al Neuromed di Pozzilli. Al convegno sono stati presentati tutti gli aspetti innovativi legati alla neurochirurgia spinale, sia interventistica, sia diagnostica. Ce ne parla Valeria Migliore. Numerosi esperti nazionali che hanno partecipato al meeting sulle innovazioni tecnologiche nella chirurgia spinale, organizzato dal professor Gualtiero Innocenzi, responsabile dell'unità di neurochirurgia del Neuromed. L'incontro ha approfondito tutti gli aspetti innovativi legati alla neurochirurgia spinale, sia interventistica che diagnostica. Al centro del meeting tutte le novità, dalle nanotecnologie alla robotica, dalla diagnostica per immagini alle tecniche mini-invasive. Si va dalla utilizzazione di materiali su cui si studia sul piano fisico-chimico, materiali che sono già utilizzati in sala operatoria, nella prima relazione il fisico ci ha fatto vedere cose incredibili, su materiali che magari senza saperlo già usiamo da diverso tempo, a tecniche nuove, materiali nuovi, strumentari nuovi, procedure diverse. Le innovazioni tecnologiche presentate al convegno portano il settore della chirurgia spinale ad avvalersi sempre più di avanzamenti diagnostici e strumentazioni che aiutano il chirurgo in ogni fase dell'intervento fino a massimizzare il recupero del paziente. Tutto all'insegna di una invasività sempre minore. Le nuove tecnologie sono tutte dedicate a aiutare i chirurghi nelle aree più a rischio che abbiamo, vicino ai problemi vascolari, vicino al midollo e questo crea anche una sicurezza per i pazienti e per i giovani che possono apprendere il mestiere meglio. Grazie ai progressi in campo biomedico, nelle sale operatorie, tecniche di diagnostica per immagini e operazioni micro-invasive vanno di pari passo, supportando medici e pazienti in termini di cura e follow-up delle patologie neurochirurgiche. Tentiamo sempre di essere pionieri, quindi di introdurre rapidamente tecnologie di ultimo grido che possono essere chiaramente di supporto agli operatori ma soprattutto essere d'aiuto poi in termini di follow-up, quindi di qualità anche della cura. Nell'ambito del millenario del passaggio di Enrico II a Campodipietra è stato organizzato il primo degli incontri nel centro San Martino. Si è parlato delle presenze artistiche in paese nel 1700 e della scoperta di Gioele Di Renzo, un tronetto per esposizione eucaristica, prima opera inedita dello scultore oratinese Giuseppe Giovannitti e ovviamente il tronetto si trova a Campodipietra. Sentiamo. Sono diverse e pregevoli le presenze artistiche in Molise nel 1700. Un incontro organizzato a Campodipietra nel centro San Martino si è parlato delle tante opere importanti in paese in quel periodo, in particolare di una scoperta di un giovane studioso Gioele Di Renzo, la prima opera inedita dello scultore oratinese Giuseppe Giovannitti datata 1747, il tronetto per esposizione eucaristica che era nel centro pastorale San Bonaventura. Il tronetto in particolare attualmente è collocato presso il centro pastorale San Bonaventura di Campodipietra. Le altre opere naturalmente sono tutte racchiuse fra la cappella di San Bonaventura, il centro pastorale come appena detto, e, cosa più importante, la nostra chiesa parrocchiale dedicata a San Martino Vescovo. Dante Gentile Lorusso ha parlato in generale degli artisti in Molise nel 1700 soffermandosi sulla qualità delle opere nella chiesa di San Martino a Campodipietra e del tronetto stesso. In questa bellissima chiesa, una delle chiese più belle del 1700 molisano, si conservano alcune opere, credo, dei massimi artisti che ha espresso il Molise. C'è un bel dipinto su un muro, l'Immacolata, con i quattro evangelisti di Paolo Gampa, Paolo Gampa da Ripa Bottoni. C'è una bellissima statua di San Francesco Saverio, di Paolo Saverio, di Zindo, uno dei massimi scultori molisani, Campobassano. Poi c'è una piccola tela che ho avuto io la fortuna di scoprire, forse 25 anni fa, di una Madonna di Loreto del pittore oratinese Ciriaco Brunetti. Anche questo tronetto oggi rappresenta una testimonianza importante che va ad arricchire proprio in questa chiesa appunto settecentesca, poi gli artisti molisani del 1700 che ho citato precedentemente, va ad aggiungersi anche questa testimonianza di questo scultore, Giuseppe Giovannitti, che viene definito nei documenti scultore, ma anche regio agrimenzore. La sua bella veduta di Campobasso del Settecento è stata realizzata da lui. Antonio Salvatore, direttore del Comitato Culturale 1022-2022, millenario del passaggio di Enrico II a Campodipietra, ha spiegato il significato di quello che è stato il primo di un ciclo di incontri culturali in paese. Questo è il primo appuntamento di un circuito costituito da diversi appuntamenti che si svolgeranno durante il 2022, appunto come diceva lei, ricordano il millesimo anniversario del passaggio a Campodipietra di Enrico II di Sassonia. Purtroppo dopo mille anni siamo ancora qui a raccontare purtroppo una guerra, perché Enrico II scese in Italia per combattere, e purtroppo in questi giorni vediamo che si combattono in Ucraina. Mille anni fa l'Ucraina era l'Italia. E noi vogliamo rispondere con la cultura, perché la cultura è dialogo, e il dialogo è l'antitesi della guerra. Palazzo San Francesco diventerà fino al 26 marzo una galleria artistica. Per la prima volta nei locali del comune di Sernia è stata allestita una mostra di arte contemporanea. Le opere esposte sono quelle realizzate lo scorso dicembre nell'estemporanea Ex Tempore Before Christmas. Sentiamo ancora Valeria Migliore. Palazzo San Francesco si riempie di colori e arte. Per la prima volta nei locali interni del comune di Sernia è stata allestita una mostra di arte contemporanea. L'esposizione si è arricchita delle opere dipinte lo scorso 18 dicembre, proprio nel chiostro del comune, durante un'estemporanea dal nome Ex Tempore Before Christmas, a cui avevano risposto numerosi artisti provenienti da diverse regioni d'Italia e alcuni fotografi pronti a immortalare il lavoro di pittori e scultori intenti all'opera. La mostra sarà aperta fino al 26 marzo, giorno in cui agli artisti verrà donato il catalogo delle foto realizzate durante l'estemporanea. Con l'occasione l'assessore Luca De Martino ha sottolineato la novità assoluta di questa iniziativa che ha l'obiettivo di dare risalto alle arti visive in tutte le loro sfaccettature. Per la prima volta nei locali del comune di Sernia ha chiuso. Abbiamo esposto queste opere che sono state realizzate dagli artisti nel periodo di Natale, poco prima di Natale, nell'estemporanea, organizzata apposta per il Natale. Abbiamo dovuto aspettare causa Covid, ma diciamo che guardando la mostra ne valsa la pena, perché ognuno di loro ha dato il meglio, sia per quanto riguarda i pittori, sia per quanto riguarda la fotografia, ci sono delle cose veramente belle. La mostra, promossa dal comune, dalle officine cromatiche, dall'associazione Smart e dallo spazio Arte Petrecca, ha l'obiettivo di valorizzare Sernia anche agli occhi degli artisti venuti da fuori, creando un circuito non solo artistico e di intrattenimento per la popolazione, ma anche un vantaggio per la microeconomia locale. Ci sono diversi artisti, parliamo di ben 12 artisti e 7 fotografi che hanno immortalato quel momento, proprio di quello che è stato realizzato, dove gli artisti non hanno fatto altro che raccontare un diario visivo del loro territorio, della loro identità. D'altronde è stata una call for artists, quindi è stata molto basata sulla libera interpretazione. Vediamo tecniche differenti, quindi dalla pittura d'olio all'acrilico, anche opere con la grafica, vediamo delle opere un pochino più concettuali. Diciamo che la mente dell'essere umano parte da uno studio, da una ricerca, fino ad arrivare a quella che può essere la figura umana, ma anche a una completa astrazione, quindi su tela. In chiusura l'appello per un cane, Paco, il suo nome, un pastore tedesco di quattro mesi, ecco vedete, con microchip che si è smarrito a Campobasso in zona mascione nei pressi della pizzeria in ritrovo. Chiunque lo abbia trovato o ne abbia notizie può contattare, come sempre, la nostra redazione. È tutto, termina qui il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti.